Uè bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video però anche se si delle ha lasciato milioni zero lo sapevo che l'avrebbe fatto se ha detto ma lo sei lo sicuro signori io vi dico solamente una cosa dica 2000 faccio io ragazzi la faccio 6.000 per tutti e tre 6.000 bis per tutti e tre non si fidano di me male male ma questo è gravissimo Oh bello il pesce punto zero questo ti dà vita e ti fa muovere bello veloce xyuderone si ha fatto i barilli dicono ma no 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 non lascia perdere no gravissimo qui la sopra in alto? si si aspetta ma la tutti quelli? no 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 non è grave ma cosa è grave ma non ci arrivi xyuderone sono dieci quelli ma non è successo nulla non siamo al fidente nei miei confronti lei non sa che sta parlando con il re dei pesci non che non che attenzione io sono tuttora al secondo posto per numero di pescate in europa e si te l'ho già detto non ha pescato lei ha pescato un altro va bene però comunque io supportavo la pesca dell'altro nel senso ah ok mi scusi la stessa cosa ha ragione io ragazzi fossi in voi tornerai qui adesso perché dovete essere nel punto dello slurp mentre arriva la safe se vengono qua siamo fottuti ve lo dico se vengono qua siamo fottuti sono d'accordo ma non ha senso che vengano qua è diversa la cosa non ha senso la safe ma va la safe è troppo lontana pizzo non verranno mai questi e pom c'è chi è troppo lontana c'è chi nato in testa mi piace che è tutto diviso bene wow un altro flopper raga let's go 2000 bits a testa per la vittoria vi ricordo mi sento diventato fortissimo a pescare ve lo dico si 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 ma guardate che da settimana scorsa stiamo affinando la tecnica io F ti consiglio di prendere anche già le meduse ora che ti puoi muovere senza troppi problemi prendi le meduse ora le prendo io devi farti anche la casa in fondo è Piz che lo fa figa ah ma è Piz ma lei va fino in fondo niente Piz è mutato perché lo farciscono andiamo è una settimana che sta pescando e non ho ancora capito che i pesci vanno a destra e le armi e la lattina a sinistra le lascia qua cioè Piz lei veramente non ha un'idea di quello che fa sono rarissimi da pescare senza la bozza eh io non ho veramente parole ragazzi abbiamo ancora due minuti e passa per pescare ma stiamo scherziamo no è vero allora ci siamo messi bene questo lo potremmo vincere sul serio quant'ne abbiamo ancora di meduse eh eeeh cinque uohoh uohoh cinquanta cinquanta secondi che toglie due anzi un cento secondi che toglie due arriviamo fino a se da cinque tutti e tre vivi poi moriamo quando toglie cinque come df è troppo un matematico queste cose deve farle lui quindi noi non possiamo più curarci giusto perché abbiamo pescato tantissimo oggi per forza si 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 è vinta fallo bene mi raccomando però dipende quanti i barili ci ha rubato ve lo dico già eh toglie cinque deve partire qui sono ancora quindici secondi te autonomia io pizzo vai ma dovresti partire no? io dovrei partire eh io poi io partirei forse in te pizzo vai allontriamoci giusti non parliamo di polizia questa roba ok ti ho troppato giusto il pesce dai pizzo dai parti bene con due stack di perfezione ricorda di stack bene non canna da pesca materiali già ce ne aveva parecchi ragazzi si si adesso lo lasciamo tranquillo togli cinque ancora per 26 secondi più un minuto allora pizzo conviene che ti fermi ogni volta per farti tre pesci direttamente ti fermi quando hai 15 massimo 20 e ti fai tre di fila di cose così mi spieghi meno tempo a fermarle hai sette secondi ad aspettare qua tranquillo proprio nel chilling ma siamo già 3v1 ma? no 1v1v2 si beh comunque per dire e non ho ancora toccato neanche un pesce no vabbè no fuori 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 Toyota tra poco di riguardo basta pizzo torna 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 devo andarci guardate che se la può giocare con i pesci che ha preso eh tutto zero esatto si ma Toyota è tantissimo devi assolutamente andare nei pesci bravo pizzo bravo bravo ceni 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 vai 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 pizzo eh si eh si non esce più esce ancora si 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 certo che esce in guadenda da pantano ok 1v2 1v2 lol ma ce la fa F? ovvio perchè no come sempre fatto si 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 va fai cosa passa qua dentro vedi se ci sono camion e fuori a destra qua vai qua niente niente ha preso non preso secondo me qua fisse io prima di andare poi laggiù riandrei a rifare lo scopo del giardino sono d'accordo intanto togli sempre 10 quindi non ha senso che non lo faccia niente bouncer è l'ultima ok perfetto oh te le bouncer vedi anche qua quanto recuperi con le bouncer figa eh buoni 4 secondi ripulla di tutti i pesciolini ci sta ci sta sono al primo moving e vai proprio con tutti F ma aspetta non può più tornare dopo fagli definire qua tanto toglie sempre 10 ah è vero è vero è vero bravo 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 scusami c'hai ragione è più worth perchè se poi si si bravo finisci di i pesciolini se vinci così bene altrimenti tanto dovresti giocarti il tutto per tutto e mentre ti muovi qua guadagni un secondo ogni 10 ne guadagni poi ci torni comunque ovviamente qua se riesce sta per chiudersi 12 secondi e vanno alla tempesta numero 7 ha fatto benissimo chi si chiude la dire a questa cosa eh si in festa numero 7 di 9 sembrano sempre tanti e poi ti accorgi che sono sempre pochi non perdere manco un nanosecondo perché andrei di stare attenti io sotto a 50 a 49 esatto si si sotto a 49 lo vuoi fare 8 secondi e si va nel terzo moving 34 secondi e si chiude anche il terzo moving 6 8 di 9 si va al terzo di più di meno di mezzo di stare 2 minuti se loro non hanno cure allora 15 15 quindi un minuto contai che ascoltando quella roba che c'è tu sono 2 minuti ragazzi la cascata non da 2 la cascata da 2 solo se non sei hittato dalla tempesta esatto se ti hitta la tempesta da 1 pizzi spazio quel tattico di m***a e vedi quanti pesci sono devi partire con 4 stack da 6 non devi sbagliare esatto sposa sposa non ti dà problema bravo ok pizzi 1 minuto e 27 si chiude e poi vinci sei messo molto meno delle ultime volte mi raccomando fino all'ultimo pesce quanti sono 3 6 9 ancora easy tieni ancora un minuto e 13 e poi la vinci pizzi e ce la può fare devo tenere uno zero point per adesso forse va va è anche quello interessante uno zero point lo si tiene sali da sopra mi raccomando eh per entrare in main sali da sopra non da sotto dai pizzi 53 secondi vai allora solo i pesci che ha se li usa bene guadagna 15 secondi e 45 42 14 secondi lui può farsi 14 secondi con la safe chiusa già così quindi in realtà però corri vai di flopper vai di flopper vai di flopper fula di via via cammini a qualche secondo bello vai dritto non entrare qua sinistra vedi al volo bello sali hai tipo 16 secondi di autonomia anche 17 20 secondi e si chiude tutto pizzi vai pizzi entra qua a destra veloce ci sono 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 4 secondi 3 2 1 è tutto chiuso ma infatti altro bene pesce ok perfetto vai bravo 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 vai ora dai si faccio la percorazione ha vinto ha vinto ha vinto dai 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 che arriva a te l'ho un pozo che pensate pesa inghiottita la faccio se la faccio se la faccio dai che arriva subito subito sopra vai non è possibile fatti pesciata e ce l'abbiamo fatta ah ah Grazie a tutti.